Gentili telespettatori, buona giornata. Un gruppo sostenuto, nutrito, di 192 magistrati in pensione contro il governo. Abbiamo anche i magistrati in pensione contro il governo. Che cosa dicono questi 192 magistrati in pensione contro il governo? Dicono che ci sono gravi segnali di Stato autoritario. E quali sarebbero questi segnali? Non si sa. I segnali sono, posso ipotizzare io quali siano i segnali. Il governo all'inizio del suo mandato, nei primi mesi, non ha voluto mettersi a tu per tu, face to face, faccia a faccia con i magistrati. Il governo non ha voluto lo scontro. Naturalmente c'è una parte della magistratura che fa politica con le sentenze. Chi te l'ha detto? Eh, lo ha detto per esempio Luca Palamara, ha scritto anche un libro del sistema, perché è stato proprio beccato mentre complottava contro il centrodestra. Quindi l'hanno beccato e ha fatto un libro e ha detto di essere pentito. Se non lo beccavano era ancora lì. Allora, il governo, i ministri, la Meloni, i capi politici, hanno fatto passare mesi, hanno ricevuto degli attacchi da parte della magistratura, e uno, e due, e tre, il governo non ha mai risposto, e quattro, e cinque, sei, il governo non ha mai risposto, arrivati al sette, otto, nove, dieci, hanno detto adesso basta. Adesso siete tutti autorizzati a rispondere a tu per tu. A questi magistrati una parte, perché abbiamo capito che evidentemente sono tutti una parte, diciamo, sono faziosi, sono fiancheggiatori dell'area di sinistra, cioè cercano di fare politica con le sentenze, che è una cosa veramente... Forse questo è l'autoritarismo? I gravi segnali di stato autoritario è perché adesso i politici si mettono a tu per tu con i giudici che vengono santificati dalla sinistra? Perché la sinistra ti dice che le sentenze sono sacre, che il giudice non si critica, che quello che dice la sentenza è praticamente avvolto in un alone di misticità, sentenze mistiche. Alla fine poi ci accorgiamo che ci sono migliaia di persone in carcere in Italia, innocenti, che non hanno fatto niente, errori giudiziari. E quindi poi non si capisce e uno si chiede, scusate, ma il PD è la sinistra che dicono che le sentenze non si discute? E quei poveracci che sono finiti in carcere per errori giudiziari le sentenze non si discutono? come fate a dirmi che i giudici sono intoccabili quando poi fanno errori come tutti e finisce gente in galera anche se è da innocente? Quindi sarebbe meglio finirla con la storiella di Babbo Natale che il giudice sacro è quello che dice è come la Bibbia. Insomma, il giudice è una persona che fa un lavoro e viene chiamato a dare un'opinione che poi conta quell'opinione, molto conta, però può sbagliare, può essere di parte, può essere fazioso, tutto quello che volete. Quindi io direi alla sinistra di smetterla, di santificare la magistratura. Capisco che da lì arriva un aiutino bello consistente, però insomma forse sarebbe il caso di togliere la santificazione e guardare le cose con uno sguardo diverso, diverso. Io vi ringrazio, vi auguro buon proseguimento di giornata, ma prima di concludere questo video vi parlo sempre poi di Matteo Salvini che dice per colpa di alcuni giudici comunisti che non applicano leggi il paese insicuro ormai è l'Italia. Così dice il vice premier e leader della Lega Matteo Salvini e la Lega stessa dice ma in Egitto nel 2023 ci sono stati 14, milioni di turisti di cui 850.000 dall'Italia, un paese sicuro per tutti tranne che per quelli che cercano di entrare in Italia, che per PD e ANM devono rimanere tutti qua da noi. E poi Tommaso Foti, capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera dei Deputati, dice spetta allo Stato, non ai giudici individuare, i paesi sicuri. Ma interviene Giuseppe Santalucia, presidente dell'ANM, che dice chiediamo di poter esercitare il nostro ruolo delicatissimo senza subire condizionamenti. e come vi dicevo anche Nicola Fratoianni dice sentenza ineccepibile quella di Catania che ha bloccato il rimpatrio di un egiziano. Secondo Fratoianni è ineccepibile questa sentenza, è ineccepibile. Chiedendo poi a Fratoianni perché è ineccepibile? Probabilmente se io potessi fare questa domanda Fratoianni lui mi risponderebbe perché è ineccepibile? Perché sì. E andiamo avanti. E il PD, per mezzo di Antonio Nicita, dice Salvini vede giudici comunisti dappertutto. E poi il leader di Italia Viva Matteo Renzi dice Meloni butta i soldi sui migranti. E la Meloni quando le chiedono sull'Albania dice ancora avete la fissa? Avete la fissazione? Una battuta ai cronisti. E per quanto riguarda il vicepresidente del CSM Fabio Pinelli che è andato a trovare la Meloni dice la Premier una visita nell'ambito di una proficua e virtuosa collaborazione nel rispetto dell'autonomia delle differenti istituzioni. Beh, che dire. Io vi ringrazio, vi auguro buon proseguimento di giornata. Ci vediamo al prossimo video tra una ventina di minuti. Grazie a tutti e arrivederci. A presto. Grazie a tutti.